Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi del lancio di Uniswap versione 3. Infatti pare che è proprio questione di giorni che ci saranno dei dati molto più aggiornati. Vediamo i dati iniziali del lancio della versione 3 di Uniswap, analizzando esattamente quali sono le novità che ci sono state per quanto riguarda appunto il lancio di questa nuova piattaforma. Ma prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Iniziamo immediatamente a capire che cosa è stato fatto negli ultimi giorni. Come sicuramente avrete potuto sentire, c'era nell'aria che ci sarebbe stato il lancio di Uniswap versione 3 e pare che proprio per bocca del fondatore di Uniswap la versione 3 sia stata un grande successo nell'ultimo periodo. Praticamente parliamo degli ultimi giorni. Ma il problema fondamentale pare rimangano le gas fee molto elevate. Infatti il fondatore di Uniswap ha definito testualmente il lancio della terza versione di Uniswap un grande successo. Però gli utenti pare si siano lamentati delle gas fee eccessivamente elevate. Infatti il fondatore di Uniswap, Aiden Adams, ha riferito che la terza iterazione del popolare DEX ha avuto molto più successo rispetto alla seconda in termini di volume. In un recente tweet, Adams ha dichiarato che il lancio di Uniswap versione 3 è stato un clamoroso successo. Ha evidenziato che nelle prime 24 ore di attività la terza versione del protocollo ha elaborato il doppio del volume rispetto a quanto fatto dalla versione 2 nel suo primo mese. Quindi ragazzi, analizziamo questa affermazione. Significa che la versione 3 ha fatto 30 volte, anzi scusate, ha fatto 60 volte il volume della versione 2 nel primo giorno. Perché se ha fatto il doppio del volume della versione 2 in un mese, in un solo giorno, ha quindi fatto per 60 volte quello che è stato fatto dalla versione 2. Quindi un'implementazione che ha fatto avanzare di parecchio il livello dei volumi su questa piattaforma. Comparando infatti il volume totale di Uniswap al valore totale bloccato TVL, Adams ha affermato che adesso la piattaforma opera con maggiore efficienza rispetto al passato. La versione 2 ha visto un volume di 1,1 miliardi di dollari e un TVL di 8,1 miliardi con un rapporto di efficienza del 13%. Nel suo primo giorno, invece, la versione 3 ha elaborato un volume di 150 milioni e un TVL di 300 milioni. Quindi abbiamo raggiunto in questo caso un'efficienza del 50%, quindi ben superiore rispetto a quella della versione 2. Adams, vi ricordo, ha scritto su Twitter Sono trascorse circa 24 ore dal lancio di Uniswap versione 3. Statistiche iniziali sono le seguenti. Versione 3, volume a 24 ore, 150 milioni di dollari, TVL 300 milioni di dollari, quindi abbiamo un'efficienza al 50%. Successivamente ha riportato i dati della versione 2 del primo giorno, 1,1 miliardi di dollari e 8,1 miliardi di TVL, quindi con un'efficienza al 13%. A un giorno dal lancio ha scritto V3 ha già visto oltre il doppio del volume rispetto alla versione 2 nel suo primo mese. Potete sicuramente, ragazzi, andare a cercare i suoi tweet proprio per leggerli direttamente. Ha esattamente scritto queste parole, le ho semplicemente tradotte. Al momento, infatti, della stesura, la dashboard di Uniswap mostra un volume giornaliero di 251 milioni di dollari e un TVL di 404 milioni. Ovviamente, a preoccupare, però, pare siano le gas fee che sono ancora troppo elevate. Cerchiamo di capire che cosa è stato detto a proposito di questa cosa. Infatti, non tutti hanno apprezzato i cambiamenti apportati al DEX, più popolare al mondo, dato che alcuni utenti si stanno lamentando dei costi associati all'utilizzo della terza versione. Infatti, è stato riferito ad esso commettere errori è persino più costoso. Pare che un utente abbia scritto «Ho provato a migrare la mia liquidità di UniEther in versione 3, ma il trasferimento è fallito e ho dovuto comunque pagare 108 dollari in gas fee». Anche Aseb Kureshi, managing partner di Dragonfly Capital, ha dichiarato che Uniswap V3 è più costoso da usare rispetto al suo predecessore, prendendo come esempio una transazione in cui ha tentato di scambiare 3 Ethereum per DAI. E lui ha affermato «Sembra che Uniswap V3 sia più costoso in termini di gas rispetto a V2, più o meno come tutti avevano previsto. In particolare, sembra che sia circa il 28% più costoso per le transazioni single up, per transazioni più grandi che fanno uso di molteplici tick e bucket, i costi del gas dovrebbero essere soltanto leggermente più alti. Altri, invece, si sono lamentati dei costi relativi alla creazione di una pool e all'aggiunta di liquidità su una nuova piattaforma. Un utente afferma di aver dovuto pagare ben 0,2 Ethereum per tale operazione, ovvero circa 750 dollari. Uniswap V3 ha dichiarato questo utente «È una grande svolta, sono sicuro che lo apprezzerò ancora di più quando comprenderò a pieno tutte le funzioni, ma amico, nell'ultimo anno ho speso una quantità di gas assurda. Ehi boss, passa subito alla prossima sfida per favore». Ovviamente, questo è a livello goliardico che è stato scritto questo direttamente al fondatore di Uniswap da parte di questo utente. DeFi Prime ha invece espresso disappunto per l'eccessiva complessità della nuova interfaccia e ha dichiarato «l'interfaccia utente ora richiede una laurea per capire come valutare la propria liquidità. È un enorme passo indietro rispetto alla semplicità di V2». Quindi, ragazzi, per chiudere il cerchio, il costo eccessivo delle commissioni rimane il principale svantaggio della piattaforma, sebbene negli ultimi mesi lo stesso si possa dire per tutti i progetti basati su Ethereum. Il 29 marzo le fee giornaliere su Uniswap hanno superato quelle dell'intero network di Bitcoin, cioè 1,7 milioni di dollari. Quindi, ragazzi, capite bene che c'è stato sicuramente un risvolto positivo, nel senso che, proprio a detta delle parole del fondatore di Uniswap, ci sono stati notevoli incrementi di volume, quindi probabilmente la piattaforma è migliorata da questo punto di vista. altrettanto non si può dire per quanto riguarda il discorso delle fee, che pare siano salite. Però, prima di dare un'opinione definitiva sulla versione 3 di Uniswap, è buona norma, come già ha affermato uno di questi utenti che vi ho citato, cercare di capire esattamente quali sono le nuove potenzialità di Uniswap versione 3. Perché, ragazzi, è importante capire in che cosa si è sviluppata Uniswap versione 3 rispetto alla versione 2, e se questo aggiornamento potrà dare beneficio a tutti quelli che investono o che utilizzano la piattaforma Uniswap. Quindi, come sempre, ragazzi, io vi ricordo che bisogna andare in profondità quando si ascoltano le notizie. Io, in questi video, vi do un quadro generale. Poi, prima di andare effettivamente ad investire o ad operare su queste piattaforme, è bene che ciascuno di voi vada ad approfondire le notizie generali che io vi porto in questo canale, che sono delle notizie relative all'andamento a 360 gradi degli investimenti per quanto riguarda criptovalute, azionario, obbligazionario e, in generale, su tutti gli investimenti che possiamo fare noi investitori privati. Quindi, questo, ragazzi, non è un consiglio finanziario, perché io non sono un consulente in questo momento e non lo sarò mai. È semplicemente la mia idea quella che vi riporto. Quindi, vi chiedo di lasciare a questo punto un bel commento a questo video se vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!